Il capice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, prima incontra il Presidente Francese Sarkozy, poi la Merkel. Andiamo subito in diretta da Bruxelles, la giornata con Giovanna Pancheri. Buongiorno, anche i leader dei 27 qui a Bruxelles devono fare i conti con le proteste perché sono stati accolti dagli scioperanti belgi, visto che il Paese è in sciopero generale a causa delle misure di austerity, che come sappiamo ormai negli ultimi mesi sono state adottate in Stato e 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 in Stato. Va bene, è abbastanza evidente che c'erano dei problemi, ci torniamo tra poco. Sì, torneremo a collegarci con Bruxelles per cercare di capire quel che è...